Progetto Manifattura Green Innovation Factory è un'iniziativa promossa dalla provincia autonoma di Trento per convertire la storica Manifattura Tabacchi di Rovereto inaugurata nel 1854 in un centro di innovazione industriale nei settori delle tecnologie per l'ambiente e della Green Economy. Una piattaforma produttiva composta di spazi fisici, infrastrutture, servizi, competenze e conoscenze specializzate. Ben 9 ettari su una superficie coperta di 70.000 metri quadrati adibiti ad ospitare un cluster di start-up, imprese, centri di ricerca. È qui che il gruppo T-Trade si è insediato con il progetto Digital Ecosystem al fine di stimolare la collaborazione tra i vari attori presenti in luogo e di costituire un riferimento nel settore delle clean tech a livello nazionale ed europeo.